Capitano Benitez Capitano Benitez richiede supporto immediato al posto di blocco della Galleria Lincoln Questi stronzi stanno assaltando la barriera Se fanno saltare le paratoie questo posto finisce sott'acqua Capitano Benitez Capitano Benitez Capitano Benitez Capitano Benitez Grazie a tutti. 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 Siamo agenti della divisione e abbiamo eliminato la minaccia al perimetro. Ti inserisco nelle nostre comunicazioni così potrai indirizzare a dovere il supporto. Ottima notizia, ma qui è ancora un macello. Alcuni di quei bastardi sono passati e stanno piazzando esplosivi sulle paratoie della galleria. Vogliono uscire, vogliono uscire a qualunque costo. Occhio ai rikers, disinnesco questa roba. Amici in arrivo, amici in arrivo verso la tua posizione. Amici in arrivo, amici in arrivo, amici in arrivo verso la tua posizione. Amici in arrivo verso la tua posizione. Amici in arrivo, amici in arrivo verso la tua posizione. Amici in arrivo verso la tua posizione. Amici in arrivo verso la tua posizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo non è posto per voi. Mentre! Sono pronti a uccidere per ottenere quello che vogliono. Vieni! Ci troviamo nel centro di controllo. Non fateli avvicinare! Abbiamo a che fare con ladri e assassini. Chi ha fatto entrare dei mercenari a New York? Abbiamo degli agenti della divisione di rinforzo. Ma quella gente là fuori non ha intenzione di... Grazie a tutti. 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 Agente e i tuoi amichetti hanno un cecchino in posizione. Tieni gli occhi aperti. Non ce l'avremmo fatto senza sparare come te. Per fortuna c'eri anche tu, quando hai scompiato l'interno. Non ce l'avremmo fatto senza sparare come te, non ce l'avremmo fatto senza sparare come te. Non ce l'avremmo fatto senza sparare come te, non ce l'avremmo fatto senza sparare come te, non ce l'avremmo fatto senza sparare come te. Non ce l'avremmo fatto senza sparare come te, non ce l'avremmo fatto senza sparare come te. 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 Evidenti che riguarda la flazione! Sì! Sì! Grazie a tutti. Grazie a tutti.